Nella città di Azzo Settimo d'Este grande evento cinematografico, lì tre giorni della merla. Il film già in sala dal 16 marzo approda ora a Grotta Zolina. Proiezioni per venerdì 26 e sabato 27 aprile alle ore 21 presso il prestigioso teatro Ermete Novelli. A tutti i sudditi di Azzo Settimo diciamo non mancate.